ciao a tutti e benvenuti sul mio canale o bentornati oggi andiamo avanti con un altro episodio della miniserie dedicata a pepper mooney e a claude allora claude si è appena svegliato ed è affamato perciò io lo mando qua di sotto poi ancora bruciato ma osilda ma non mi hai pulito il pavimento comunque osilda gli faccio prendere gli avanzi perché è affamato sono le 19 allora pepper brava mi ha intrapreso la crai la carriera non ci posso parlare artista freelance e artisti elettrizzati e a questo ingaggio deve far approvare il ritratto quindi magari io glielo faccio fare e come funziona oddio l'ha fatto dov'è non lo so ecco vabbè invia al cliente per l'approvazione ok ma stiamo scherzando era bruttissimo va bene e comunque era il ritratto di parente deceduto allora lui sta qua a mangiare e qua sta ancora piovendo va bene allora io metterei un po di candele in giro eccole qua ne metterei un'altra di sopra la faccio mettere nella stanza di per anzi no qua nel corridoio cosa posso tornare niente ma perché va bene la faccio mettere dove la metto qua va bene la faccio mettere lì ma cosa c'è qua ah già c'è il balcone e poi ne metterei una anche qui perfetto ok claude no no ripulisci ripulisci dopodiché bravo togliamo i muri abbiamo capito ormai giustamente noi abbiamo evocato ossidda per farci fare le pulizie ma ossidda non ha pulito niente anzi ha fatto solo danni allora lui che sta abbastanza bene viene quasi lava i denti ti fai anche un canta sotto la doccia così ti diverti pure per come stai hai fame anche tu allora vieni qua vai al bagno io li sto sistemando un attimino prima che arrivi hydri e che cominci la terza notte butta il cibo avariato è nato ma non c'è proprio più niente va bene allora tu cucina formaggio grigliato porzione singola lui sta qua allora ho fatto un po di cambiamenti qui vedete c'è ecco lui si era fatto portare l'insalata anzi pepper non cucinare vieni qua e mangi ti questa anzi te la metto nell'inventario così tu ti siedi un attimino qua e te la mangi qui perché lui non se l'è fatta mangiare sì vabbè scusate perché lui non se l'è mangiata gli ho messo il computer perché voglio fargli fare questo mattoncino qua perciò lui verrà qui e farà cercare informazioni sui vampiri così completiamo almeno quel mattoncino e sul farlo diventare vampiro non lo so ah ok me l'ha completato va bene allora visto che stai così vieni qua e percepisci l'instabilità ciao ghiitri discuti la tua band preferita allora dai è arrivato gigui vieni tu qua fai la scema sta salendo lei mentre lui ovviamente è qua che cerca di percepire l'instabilità della casa cosa c'è ok claude rileva una presenza infida in agguato stai allerta per qualunque evento insolito rispetti potrebbero spaventare i segnali vicinati ok allora facciamo una seduta spiritica di gruppo e facciamo un evocai dei fonti ma si con tutti evocai dei fonti vediamo cosa succede questi due che stanno parlando nella stanza di claude secondo me parlano proprio di lui qui tutte e due come stanno lui ha già iniziato vabbè loro si accodano mi da fastidio i muri bassi qua mi da fastidio però non riesco a muovermi nella casa con i muri perché è troppo stretta non sono assolutamente abituata sembra che stanno all'aperto ma lui le evita parecchio forse è più di ghidri lei no ovviamente ma lei mi alza l'abilità o no uno spiritello ok due ok ok allora tenta di comunicare e poi assolutamente io voglio provare ma quanti ok allora adesso sono seriamente seriamente preoccupata alzati anche tu oh mio dio vieni qua tenta di comunicare stai fermo un attimo presenta l'offerta dagli il fiore solitario è spaventata claude come sta andando anche tu sei spaventato ah ok per loro che stavano parlando lì no non è andata bene cosa stanno facendo muri odiosi come sta andando a lei che succede che succede non le è andata bene che è successo siamo pieni di fantasmi ma aiuto tenta di comunicare ma che succede tenta di comunicare ghidri aiutaci ghidri non c'è scritto ti prego aiutaci facciamo offri l'anima cosa succede tu continua a presentare offerte da lì è un lama ghidri ghidri ovviamente che sta sempre dietro a lei comincio a capire perché temperance ce l'abbia tanto con lui dai se ne è andato ma se ne sono proprio andati no ok sono scesi allora io direi vieni qua e offri l'anima perché voglio vedere com'è in casa tutto bene no che non va bene l'uomo di melma vabbè tu stai a chiacchiera con ghidri vieni tu ad asciugare la creatura di melma stai fermo fantasma offri l'anima vediamo tieni è triste sembra che manchi qualcosa per aver offerto un frammento della tua anima se non altro lo spettro lo spettro ne ha fatto buon uso no eh lo spero mi ha dato un idolo ok teniamolo qui dentro e lui è triste perché ha dato l'anima vieni qua asciuga la creatura di melma finalmente un po' di azione lei è spaventata poveretta ma ghidri che rimane sempre su ghidri ghidri noi abbiamo bisogno di te che succede che succede che c'è ah è perché è andato via questo ok vieni qui da lui e no credo è molto incoerente va bene fallo vieni qua e grida ho visto una cosa verde per terra aiuto ma che c'è ma perché stai urlando aiuto chiedi un incoraggiamento ti prego claudio non sto capendo più niente qui vedo melma verde per terra i fantasmi dappertutto lo so hai ragione ma che cosa hai e lui è tristissimo chiedi un consiglio ho dato un pezzo della mia anima per liberarci di quegli spettri e lei e lei tipo cosa hai fatto un pezzo della tua anima lei è sconvolta e lui non avevo alternativa ragazzi guardate che facce lei tipo cosa hai fatto un pezzo della tua anima e certo come avrei potuto liberare casa se non l'avessi fatto comunque mi hanno dato un idolo vieni al bagno lasciala stare e idolo bizzarro va bene lo mettiamo qua lei va al bagno lui va in bagno e lei è tipo mamma mia c'è lo spettro fuori oh ma qui c'è un altro idolo bizzarro mettiamolo qua un po' in giro probabilmente sono sparsi in giro comunque prova tu qua presenta l'offerta dagli è un lama perché non sto riuscendo a farlo con nessuno Claude ho fatto un discorso esortativo ha accettato? sì cosa ci hai dato? ectotorta al giorno d'oggi è normale creare che cos'è? lo è bello allora ok ragazzi io sento troppi rumori ho paura al giorno d'oggi è normale creare ricette con ciò che abbiamo portata di mano quindi perché non usare l'ectoplasma? non siamo in grado di accertarne il valore nutritivo ma è senza dubbio un ottimo ingrediente per una torta soffice gustosa perfetto lei la vede e ovviamente se la mangia eh niente Claude è triste lo stesso lui arriva qua e fa scusa che cosa stai mangiando? che succede? che succede se lo mangia? vediamo pienezza del nooo era proprio qualche ci voleva probabile che l'appetito non si farà sentire per un po' cioè ragazzi volete vedere che il fantasma ha fatto l'ecto torta con il pezzo dell'anima di Claude cioè quindi tu ti sei mangiata l'anima di Claude un pezzo d'anima di Claude cosa stai facendo qua fuori? c'era un fantasma e l'ho mandato via impara a conoscere e io ci provo ragazzi complimento deprimente prova a flirtare vediamo che succede dai si è stanco morto pure io ogni tanto mi allontano per vedere se c'è qualcosa in giro ci sta va bene c'è stato ok si sono spente le candele sacre comunque io farei qualcosa di romantico con loro dai esprimami reazione lui è triste per sette ore fattore paura ah e questo è perché lui è stato spaventato da lei chiede un consiglio lei sta pensando a fichi fichi ragazza lui che si sta incavolando dice non mangiare le cose che ti danno i fantasmi senza aver chiesto a me prima ma lei gli sta dicendo che ha fatto il ritratto va bene visto che ci siamo lui vuole fare questa cosa quindi racconta una barzelletta sui nimi tu ti stai bagnando però si è mangiato un pezzo dell'anima sua ma non è andata bene vabbè discutì degli autori preferiti vorrei farli avvicinare un po' perché secondo me loro due stanno bene insieme ma se io faccio qualcosa con lei se io faccio un complimentati per l'aspetto lui ci sta anche se triste no ok d'accordo non ci sta va bene lei dopo questa cosa se ne tornerà dentro e dice va bene d'accordo io me ne vado a dormire ci vediamo ci vediamo domattina vado a farmi la doccia lui è tipo ok vabbè Claude vieni qui accendimi le candele tu te ne vai a dormire anzi prima di andare a dormire accendi la candela e io direi di fargli celebrare una una cerimonia a lui vedete come sono andate le cose Ghidri non ci stai dando nessun aiuto che succede? perché è stanco no che succede? che succede? è perché lui è stanco vai a dormire piangi a fiumi lei è terrorizzata Ghidri ti prego aiuto aiuto posso farlo il terrore mi assale aiuto finalmente posso farlo vai vai da Ghidri tutti nella stanza di Claude Ghidri Ghidri maledetto ma se tipo ci provasse lei secondo me ci sta perché lui era troppo stanco e quindi Ghidri è qua nella stanza per lui quindi lei vedendo questo dice ma ci provo io da sola ragazzi forse ce la fa forse ce la fa lei ecco le luci le luci mamma mia ma questo sempre a terra ok adesso anche lei può farmi le sedute spiritiche dove vai Ghidri ma no Ghidri questo è il nostro computer no è stanca anche lei no ha fatto ancora più casino ragazzi no dormi no no anche tu mamma mia no allora ragazzi io direi che per questo episodio ci fermiamo qua perché è il delirio io devo sistemare i loro bisogni non stanno riuscendo a fare le sedute e niente vi do appuntamento al prossimo episodio lasciate un like se questo vi è piaciuto e vi aspetto nel prossimo video ciao ciao